Buongiorno dal Tg1, il segretario del PD Zingaretti annuncia sono positivo al coronavirus in un video postato poco fa su Facebook. Il leader Dem, governatore della regione Lazio, spiega sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a lavorare coraggio a tutti e a presto. E la solidarietà arriva da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. Paola Cervelli. Allora è arrivato anche io il coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente. La mia famiglia anche sta seguendo quelli che sono i protocolli che si seguono in queste situazioni. Lo comunica con un video sui social Nicola Zingaretti. Ho il Covid-19, dice. Ho sempre detto niente panico, sto bene e mai come ora darò l'esempio seguendo le disposizioni dei medici. Lavoro da casa per il segretario del PD e governatore. Vicepresidenti della giunta regionale del Lazio e vice segretario del PD Orlando lo sostituiranno sul campo, spiega. E aggiunge che verifiche sono in corso da parte dell'ASL sulle persone che gli sono state accanto. Ovviamente mi attengo a tutti i protocolli e sarò seguito. Poiché sto bene, aggiunge Zingaretti, è stato scelto l'isolamento domiciliare. Coraggio a tutti e a presto, conclude il segretario Dem. Sostegno, tweet, incoraggiamenti da tutto il PD. Zingaretti guarisca presto, contento che abbia rassicurato. Fondamentale restare uniti, dice Di Maio. Auguri di pronta guarigione dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Forza Nicola, tutti con te e con tutte le persone che stanno combattendo. La solidarietà di Matteo Renzi. Sì, solidarietà bipartisan. Anche da Matteo Salvini arriva un incoraggiamento. Niente polemiche, dice quando c'è di mezzo la salute. Il governo ha dato via libera alle nuove misure contro la diffusione del coronavirus. 20.000 assunzioni tra medici e infermieri. Stop nei tribunali alle udienze non urgenti. Atteso per oggi un nuovo decreto del Presidente del Consiglio con le indicazioni su nuove zone rosse in Lombardia. Alessandro Gamberi.